Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti, scusa! Io mi chiamo Maria Rita Io mi chiamo Igor e oggi, bellissima sfida Giocheremo a questi Bellissima challenger Con i rimbalzoni spaleggianti Valdoni spaleggianti E come si chiamano questi? Papà, abbiamo fatto più difficile Perché io Prenderò il più grande E lui il più piccolo Cosa? E lui il più piccolo Cosa? E' il pallone Il pallone Il pallone Facciamo la mega La mega Sfida No Sto 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 Allora no Prima di iniziare la nostra mega sfida Come avete capito Oggi faremo la sfida dei palloni rimbalzanti Però bisogna gonfiare questo che è nuovo Si si lo gonfieremo Ma la barzelletta no? Continua la barzelletta Allora Come faceva? Non mi ricordo più Anch'io Ah si Mi dica il nome di un animale domestico Oh boh facile Er cane No non si dice il cane Si dice il cane Mi dica il nome di un quadrilatero Facilissimo Er rombo Ma non si dice er rombo Si dice il rombo Alla fine Del video Coprirete la fine La fine della barzelletta No è bellissima questa Ora Gonfiaggio Del pallone Del parapordo Ok? Si? E' confissimo E' confissimo E' confissimo Io devo mettere il tappo Questo? Eh questo Andiamo a fare un'operazione velozissima No metti tu Cosa? Lo sai fare E' un'operazione velozissima E' un'operazione velozissima E' un'operazione velozissima E' un'operazione velozissima Ok Uno Due Tre Bene Che abbiamo fatto Che bello E' grandissimo E' grandissimo In confronto Ma che duro Che duro Che gonfio In confronto Quello Provo anche questa un po' Oh Dai In confronto un po' Ragazzi E' bellissimo E' bellissimo Ma questo Tengo così questa Faccio un po' In confronto Ah 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 Che Buon E' bellissimo Miserale Operazione Operazione Che Devo Yes Oh E' bellissimo Emmy Die � Cone Pi eln Ah Piorno Piorno Of no 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 vai falte E' fatto! Guarda che operazione Tito! Operazione! Allora, io tengo la pompa, tieni! Guarda te Lu! Tengo la pompa, al tuo 3 io la mollo! 3! No, devi contare 1, 2, 3! 1, 2, 4! La capa! Lo trovavo il cucchino! Come 1, 2, 4! E' praticamente no? E' molto semplice questo gioco! Abbiamo i due cipollini cipollanti Come si chiamano i palloncini? I pallon rimbalzanti? Allora, ora vi mostriamo il percorso che dobbiamo fare 3 giri eh! Facciamo 3 giri Si parte da qua Si parte da qua, così mostrala! Guarda, bisogna fare Così di qua! Così! O da questa parte O da questa Qua c'è lì! Ginkana! Ginkana! E qua così! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! E poi chi arriva prima Questa linea per la terza volta vince! Ok! Siete pronti? Are you ready? Go! Ha una telecamera in testa E facciamo il mega percorsone! Si! Siete pronti? Iniziamo! Oh! Il mio 3 ti mollo giù Ti butto giù e si parte eh! No! Si si! Il mio 3 da qua! Pam! Giù e via! E facciamo i 3 giri! Io prendo la palla più piccola eh! Si! Ok! 3! 2! 1! Via! Ti metto via! No! 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 Come fai? Perché sei già là tu! No! 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 Non è possibile! Non è possibile! No! Non è giusto! Non è giusto! Perchè? Perchè? Si! No! Non è giusto! No! Devi rimbalzare! Ma sei fortissima! E qui? Non arrivo! Baby! Ah! 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 a cambiare la paglia la paglia più grande ora però qui più grande vediamo se ce la faccio ti sfido eh mi dai un po' di vantaggio? dai sei fortissima tu posso partire io per prima? no facciamo carta, forbice, pietra non è giusto allora prendi la tua palla se no te la sbatto in testa prendi la tua palla e mettiti qua buon piccolo vantaggio va bene, niente te la sbatto in testa eh è pure la mia 3, 2, 1 via aca me fai aca ragazzi ho perso di brutto ho perso di brutto vincitrice vincitrice dove sei complimenti hai vinto hai vinto questa challenge è stata fortissima veramente è stata fortissima brava è la parzelletta c'era vieni su che raccontiamo la parzelletta c'era una principessa come come dimmi il nome di un cane no era il nome di un animale er cane ora si dice er cane si dice il cane ok dimmi il nome di un quadrilatero errombo ma lo si dice errombo si dice il rombo ma scusa tu ragazzo ma come ti chiami il nesto ma che razza di nome è il nesto e se ti dico er nesto ti arrabbi i video di oggi si conclude qua spero vi sia piaciuto iscrivetevi iscrivetevi al canale margherita story margherita story con i nostri amici non c'era che… con i nostri così restiamo sempre gli stessi vai non c'è ma sono i vostri amici abbi di re e si vabbè e poi ci diamo domani con un nuovo vestito e noi ci diamo domani con un nuovo vestito e cosa è male no? ciao 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 ciao